Cari fratelli e sorelle, preghiamo e offriamo al Signore la giornata appena conclusa, con le sue gioie e i suoi dolori, con le sue preoccupazioni, i successi e gli affanni. Affidiamo completamente a Lui la nostra esistenza. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e Ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questo giorno. Perdonami il male oggi commesso e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. La Tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga al Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Glorie al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dio, accogli la nostra preghiera mentre il sole tramonta l'orizzonte. Dona alle nostre stanche membra la gioia del riposo e nel sonno guarisci le ferite dell'anima. Se le ombre della notte oscurano la città degli uomini, non lasciar spegnere la fede nei cuori dei credenti. A te, o Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, sia gloria e lode nei secoli dei secoli. Amen. Affidiamoci completamente al Signore, consapevoli che il suo amore ci circonda in ogni momento della giornata. Lasciamoci andare alla sua presenza, al suo amore, alla sua pace e alla sua forza. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori.